Ciao, io sono Yamile e in questo video tratterò 10 curiosità su Oshinoko E ora, sigla! Prima di iniziare vi ricordo che questo video è possibile che ci sia spoiler sulla serie e sul manga Perciò se non l'avete recuperato ve lo consiglio andate a vederlo o a leggerlo e poi tornate qua Ma prima di tutto domanda del giorno, avete visto questa serie? Vi è piaciuta? Se sì, dite qui la vostra ai commenti e anche qual è il vostro personaggio preferito Allora, io questa serie l'ho iniziata, l'ho trovata super interessante anche perché io ho visto sempre solo Love Live Ho voluto iniziarla perché era a tema idol e l'ho trovata super interessante perché ha questo lato dark e quant'altro Sul dietro le quinte di tutto quello che c'è dello spettacolo E mi è piaciuta particolarmente, aspetto che arrivi la nuova stagione, chissà quando E questo è tutto Personaggio preferito? Non ho un personaggio che avete preferito perché io li trovo tutti molto ben caratterizzato E ora iniziamo con le curiosità 1. Hai ha due stelle nei suoi occhi rispetto ai suoi figli Che ne hanno solo una ciascuno Acqua ne ha una nell'occhio destro Mentre Rubic ce l'ha nel sinistro Poiché il mito di colore degli occhi di Acqua e Rubi risulta viola Questa è un'alluzione al fatto che è solo metà della loro madre 2. Lo smartphone di AI ha la password dell'account del blog 45510 E sono le hit dei 4 membri fondatore dei B. Kovaci Il numero corrisponde alla tastiera sfioramento giapponese 3. Taka mine ta 4 Ni no ni doppio 5 AI ha 1 E wa ta nave wa 0 3. Il colore del idol del glove stick di AI è in rosso Motivo per cui quando Rubi divenne un idol come sua madre Sceglie lo stesso colore per il suo glove stick 4. L'altezza di Rubi è di 158 centimetri Il che la rende il membro delle B. Kovaci più alto rispetto a Kana che è 150 e A. Mencio che è 155 5. Acqua ha speso più di 5 milioni di iene per cercare di scoprire chi fosse il suo pane biologico Prima di continuare vi ricordo di lasciare un bel like a questo video Iscrivervi se non lo siete già al mio canale E se vi interessano altre curiosità sui anime manga vi ricordo la playlist qui sempre sul mio canale Ma ora andiamo avanti 6. Kana è una cantante relativamente brava Come menzionato da Rubi e Mencio Visto il suo punteggio di 97 al karaoke 7. Il nome di Mencio potrebbe essere un gioco in parole sul termine Memocio o Memo Pad Anche il nome giapponese del software editor dei testi Notepad Tuttavia la pronuncia giapponese del nome di Mencio o Memocio non è identica 8. Con la sua abilità cobratrice Akane è stata in grado di imitare perfettamente la personalità di A.I Tanto che sia Rubi che Acqua hanno ricordato la loro defutta madre 9. A.I condivide il suo nome con A.I A.I Yazaka di Kazura-sama Love in World Manga scritto anche dal mangake di Oshinoko 10. Il canale youtube di Mencio ha circa 370.000 iscritti e il suo account tiktok ne ha 638.000 follower Mi vorrei io Ma basterebbe arrivare a mille in realtà però Su tiktok sono quasi arrivata Comunque spero che questo video vi sia piaciuto Se è così Seguitemi e al prossimo video Bye bye Ciao 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 Ciao